Sono Alessio Trabacchini, editor per la casa editrice 001 Edizioni, una casa editrice di fumetti, fumetti, graphic novel, con particolare attenzione per il fumetto sudamericano, quello nordamericano soprattutto indipendente, quello francese e poi anche cose italiane e con una sezione tutta dedicata al manga d'autore, quindi con i grandi classici del manga come Osamu Tezuka, Gonagai, Matsumoto, eccetera. Siamo a Torino, questo è lo stand che forse vedete alle mie spalle, la casa editrice è torinese, quindi senza Torino è doppiamente importante e poi importante perché 001 Edizioni che esiste da più di 11 anni, oramai è stata una delle prime case editrici comunque a portare il fumetto in libreria comunque e quindi a dare al fumetto questa nuova visibilità e questa nuova attenzione che sta ricevendo finalmente da parte di un pubblico più vasto e dal pubblico che legge i libri senza figure essenzialmente. Quindi l'anno scorso è stata una Torino molto bella, è andata veramente bene, con un pubblico molto attento e speriamo che quest'anno di ripetere lo stesso tipo di esperienze. Grazie.